Ciao e grazie di essere qui. Partecipa al prossimo workshop dove presenteremo eccellenze digitali italiane, le metodologie pratiche, concrete, gli strumenti che ti consentiranno di trasformare la tua attività da tradizionale a digitale. Se lo vorrai, è solo per pochi imprenditori, professionisti che vogliono implementare le metodologie che per noi hanno fatto la differenza e i modelli pratici di Digital Content Manager. Quindi potremmo mettere in pratica in una giornata di lavoro gratuita insieme la possibilità di toccare con mano, guardare, ascoltare le strategie e gli strumenti operativi che ti consentiranno di digitalizzare la tua impresa, di creare una vera e propria startup digitale e soprattutto di trovare nuovi clienti. Queste metodologie che per noi hanno fatto la differenza sono applicate da molti autori del libro Eccellenze Digitali Italiane e per questo alcuni di loro saranno protagonisti insieme a noi del workshop che si terrà prossimamente in questa data. Quindi registrati qui sotto e partecipa al workshop. Ciao e grazie!